Buonasera siciliani e siciliane, ben ritrovati al Tg Antudo. Si è tenuto questa mattina di fronte al Tribunale di Palermo il presidio di solidarietà per Cialdia Luì, studente universitario, attore teatrale e istruttore sportivo palermitano, colpito negli scorsi mesi dalla misura di sorveglianza speciale. Secondo la questura di Palermo, lo studente che negli anni ha partecipato a mobilitazioni, proteste politiche e lotte sociali è considerato pericolo sociale, dunque un soggetto da isolare ed emarginare. La seconda udienza di oggi, che lo vede imputato con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale a seguito dell'arresto avvenuto il 13 ottobre scorso presso la sua abitazione, si è conclusa con una conferma della misura cautelare e il rinvio al 2 febbraio per l'inizio del processo ordinario. Se il tentativo del Tribunale era quello di isolare Chadli, una persona che si è sempre spesa e impegnata con generosità e coraggio per difendere i diritti sociali di tutti, per la salvaguardia dell'ambiente, per le mobilitazioni antifasciste, la partecipazione al presidio di oggi ha dimostrato invece che i legami che ha costruito nel contesto in cui vive si sono rafforzati. Invitiamo chiunque abbia a cuore la libertà di dissenso e di manifestazione del proprio pensiero ad aderire alla campagna L'impegno sociale non è pericolo sociale, si legge in una nota. Tutto questo per ribadire che Chadli non è solo, è che un attacco nei suoi confronti è un attacco alla libertà di tutti noi. A Roma, invece, si è svolta oggi la manifestazione dei sindaci siciliani promossa da Lanci per chiedere provvedimenti normativi urgenti atti a porre rimedio alla crisi finanziaria e di personale che riguarda i comuni. Secondo i primi cittadini, infatti, è utopistico sperare di poter utilizzare in maniera efficace le risorse della programmazione comunitaria 2021-2027 e del PNRR. I sindaci hanno spiegato che ad oggi soltanto 152 comuni su 391 hanno approvato il bilancio di previsione 2021-2023, solo 74 hanno approvato il consuntivo 2020 e circa 100 comuni si trovano già in dissesto o sottopiano di riequilibrio. Ma oltre alle questioni finanziarie, i sindaci siciliani evidenziano problematiche di carattere organizzativo. Mancano circa 15.000 unità, tra cui 4.000 fra dirigenti e categorie D, situazione che non permette di erogare servizi di qualità a cittadini e imprese e di poter utilizzare in maniera efficace le risorse della programmazione comunitaria 2021-2027 e del PNRR. Insomma, tutte richieste e rivendicazioni sacrosante se non fosse che buona parte di coloro che oggi manifestano a Roma hanno generato o hanno contribuito a generare il problema. Da un lato perché sono espressione di quella classe politica locale che negli ultimi decenni ha sperperato il denaro pubblico per fare i propri interessi. Dall'altro perché la maggior parte di loro aderisce a quei partiti nazionali che hanno sancito la scomparsa dei trasferimenti tra Stato e denti locali e approvato misure come l'autonomia differenziata, che sottraggono risorse ai comuni che si trovano in territori periferici a vantaggio di quelli già ricchi. A loro diciamo che se vogliono veramente rimediare l'unica cosa da fare è aprire uno scontro con lo Stato affinché restituisca ai siciliani ciò che è stato sottratto. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani sempre alle 19 e replica le 20 alle 21 e 45 su TVM al canale 18 del Digitale Terrestre.